E salve a tutti ragazzi bentornati su Resident Evil 3 sicuramente saremo alla finale quindi sarà l'ultimo video io ringrazio a tutti quanti per avermi seguito fino adesso quindi prima di iniziare vi ricordo sempre di attivare la campanellina per non perdere nessun nuovo video sul mio canale in più ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando a fine video lasciate un bel pollicione in su quindi andiamo avanti ok siamo ormai sapete dove sono quindi è bloccato questo qua non è che mi fido tanto eh lo sapevo io sembra pure più pericoloso mamma mia cosa è successo qua stai giù te non ti muore oh ma è ancora no dai tre coppie a vuoto no spero di trovare munizioni per favore ok va benissimo oh si è svegliata Giacomina qua si va bene va sono morti ok sono morti non ho più munizione ragazzi ormai c'ho solamente 22 colpi ok ma qua siamo messi oh stai caro ok questo è per terra qua c'è qualcuno no si può uscire oh guardate un po' ok cos'è questo chiavetta usb dell'ombrella non so cosa serve ok ci serve del siero ma noi qua non ce l'abbiamo ah ecco ah ecco era questo ragazzi ok vediamo cosa abbiamo qui oh mamma oh mamma mia stai lì per piacere oh ma qua quanto ce ne sono guardate un po' oh mamma mia mannaggia a te tu sto zombie via 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 scappiamo su ragazzi devo forza usare uno di questi qua per meno farli esplodere è bello che si rialzano guardate un po' che potenze che hanno sono resistenti rimani giù e rimani giù muori ma secondo me questi saranno quei primi zombie che che sono venuto proprio male nel laboratorio ok ragazzi mettiamo allora qua cos'è il vaccino campione di coltura di coltura però prima di andare indietro c'è un'altra cosa qua c'è queste cose qua ragazzi guarda la cosa sta scendendo un altro zombie lì rimani subito lì non ti muovere fammi scappare che non voglio sapere niente quello lì sarà sicuramente vivo che c'è una pianta possiamo combinarla sta lì per piacere non ti muovere non ti muovere guardate un po' ok giusto giusto mi è rimasto nessun golpe questa dovrò spingerla ah così si attiva la porta ok qua cosa abbiamo una spray va bene penso che abbiamo risolto tutto ragazzi oh mamma mia ah ecco i mostri speriamo che non esce nessun mostro questi sono dei tyrant tyrant ma che cavolo ho andato un po' che schifo un altro polvere combiniamo ok buono sì oh non l'ho visto non ti ho visto mamma quanto ce ne sono via da qui per favore ecco questo è quasi sveglia rimane a terra rimane a terra ok quanto altro dobbiamo guardate quante esperimenti che hanno fatto questi qua provetta con del siero ok molto probabilmente ragazzi questo video può finire prima del video finale quindi magari ci sarà l'ultimo video sicuramente nel prossimo video ah lo sapevo ah sì facciamo così allora lo sapevo immaginavo io no l'ho schivato pure niente più ecco cos'erano tutti quei mamma mia fatemi usare uno di queste ecco cos'erano tutti quei quei proiettili siamo quasi arrivati nella stanza ok perfetto siamo arrivati con il siero prendiamolo e voilà cosa devo fare temperatura contro secondo tentativo ce l'ha fatto meno male rimanoro il contenitore ok finalmente abbiamo il vaccino vero e proprio oh è Nemesis di nuovo e dove è sbucato questo qua vai col coltello cioè questo qua sbuca così all'improvviso non so dove fuggi dalla struttura eh dove ah qui sotto ok oh mamma mia ma ragazzi dite la verità se lo avete se ce l'avete davanti un Nemesis del genere cosa fareste ok ok è stata furba Jill andate a gire così oh V vai vai mamma mia non so che altro fare ragazzi qua mi dici schiacciarei il W prenderà avanti ok vai scappa scappa c'è mancato poco ok ragazzi qua abbiamo parecchie munizioni ormai si sa che nel successivo video sarà la finale infatti qua abbiamo tutto di più ebbene ragazzi direi che il video può finire qui mi raccomando ragazzi lasciate un bel pollice vi ringrazio a tutti per il grande supporto che mi avete dato in questi video quindi ragazzi noi ci beccheremo nel prossimo video con sicuramente la finale di Resident Evil 3 alla prossima ciao